Via al piano per il monitoraggio della circolazione del Covid-19 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. A tal fine sono stati individuati sei istituti comprensivi rappresentativi dell'ASL Napoli 3 Sud. Le sei scuole sentinella sono state scelte in base alla geografia del territorio, alla densità di popolazione e agli ambiti distrettuali dell'azienda sanitaria. Il monitoraggio viene effettuato su base volontaria e rivolto a soggetti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, tra i 12 e i 14 anni che frequentano le scuole sentinella. Nella prima sessione di monitoraggio dal 13 al 26 settembre sono stati coinvolti circa 900 alunni. Gli esiti dei tamponi molecolari salivari analizzati presso l'unità operativa di microbiologia e virologia dell'ospedale Cotugno di Napoli sono tutti risultati negativi. Le scuole sentinella sono l'Istituto Alipero, di Marigliano, De Curtis di Palma Campania, De Luca Piccione di Cercola, Don Peppe Diana di Portici, Amedeo Maiuri di Pompei e Salvati Pansini di Castellammare di Stabbia.